Commodore 64 Ora che ce l'hai, guarda che ci fai Magic Desk E tutto è più semplice Perché punti un dito e scrivi Punti un dito e archivi Punti un dito e stampi Più facile di così E con Commodore hai 100 e 100 programmi Didattici, gestionali Per manager Commodore 64 Ora che ce l'hai, visto che ci fai Commodore, faccio bene